Allora, giorno 2. Ieri sera siamo andati a mangiare il shabu shabu, che è praticamente tipo la fondue, alla francese, però c'è l'acqua che bolle, in questa mega terrina di ottone, e la ganga che praticamente tu butti tutte le verdure, poi un po' alla volta metti anche la carne, e alla fine ti spari anche il brodino, perché nel frattempo l'acqua che bolle è diventata un brodo, ha fuori un piaccio dentro carne e verdure, arriva la tizia, il corpettino, te lo mette nella ciotola, poi ci metti i noodles, e ti fai i noodles che non sanno di niente con il brodino, poi cosa abbiamo preso? Abbiamo preso i fagioli dolci, i fagioli di dolci, gelato al tè verde con i fagioli di dolci, spettacolare, e io ho preso una roba inguardabile, cos'era? La gelatina con caramello di liquidizia, una roba terrificante, la gelatina è quella fatta a strisci, tutte bianche, sembrava melusa, se mangi un po' poi ti passa la voglia, e oggi siamo a Harajuku, dove è la zona dei cosplayer, infatti c'è in giro gente vestita in maniera allucinante, io dopo gli faccio un po' di foto alle ragazzine vestite da liceali, vediamo se passa qualcuno in questo momento, tra l'altra cosa, da Harajuku ci sono gli acchiappini, stanno ancora? ci sono gli acchiappini fuori dai negozi, di colore, perché da Harajuku va di modo ad avere l'acchiappino negro funziona così va bene, ci vediamo dopo, ciao